Ciao ragazzi ciao a tutti sono Ian e benvenuti nel primo episodio di questa nuova serie che avevo in mente da fare da tanto ma poi ho visto il signor Canelupo fare la sua Only Yasuo to Master e allora mi sono deciso ragazzi lo faccio anch'io, la faccio anch'io ma con Zed e il titolo sarà un po' diverso magari sapete che c'è questa usanza barra moda adesso di dire che se non fai il challenger con Zed non vale perché Zed è uno se non adesso il champion più difficile di tutto questo gioco ed io non farò mai il challenger con Zed ma ci proveremo ci proveremo e soprattutto voglio riallenare perché non tocco Zed da una vita e potrei fare delle castronerie enormi che magari non siete abituati a farmi fare a vedere quindi abbiate un po' di clemenza è il primo episodio sto giocando con lo smorfa tra l'altro ho eliminato tutti quanti ho eliminato tutti dagli amici tutti 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 perché ora inizio a usarlo veramente tanto questo e non sarebbe bello che ogni volta mi escono scritte ogni due minuti quindi meglio eliminare tutti quanti e va bene così diventa anche più piacevole per voi e per me che non mi che non mi distrarrò allora sono contro veigar con il ghost fortuna non ha l'exhaust allora io devo prenderci di nuovo la mano con Zed ragazzi devo assolutamente prenderci di nuovo la mano perché non lo gioco da tantissimo non lo gioco da tantissimo ma davvero tanto e ho ho tante cose da rivalutare con lui davvero tante tipo come 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 quando pushare quando romare insomma c'ho veramente sono tornato praticamente alle basi sono tornato praticamente alle basi con con Zed davvero dopo dopo tutte le volte che non l'ho non l'ho giocato e e soprattutto dopo il pesante nerf all'early game che gli hanno fatto però assolutamente non è non è non è ancora morto questo questo sempre assolutamente sempre è sempre lui è solo che è molto più da late al momento al momento è molto e molto più da late quindi e quindi insomma è un pelo più difficile per per chi non è abituato almeno io bene o male bene o male sono abituato quindi ci può quindi ci può stare ok perfetto piuttosto devo ancora capire bene come romare quando farlo eccetera 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 e dovrei anche non failare tutti questi questi minum però sapete essendo un vega ranged c'è poco che posso fare al momento ops ho sbagliato pensavo di avere la W un'altra cosa che mi ha molto scombussolato è stata proprio la W la W io ero abituato ad avere quel piccolo danno in più che mi faceva molto comodo all'inizio solo che adesso non essendoci più adesso non essendoci più è un po' veramente un casino quindi ai 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 quanto faccio quanto fai schifo mettiamoci doppia pozza sto tizio posso posso killarlo appena ho la appena lo doppia anche se lui ha il ghost quindi sinceramente non saprei magari gli tiro un altro shuriken perfetto questo minum non lo prendo questi però dovrei prenderli ok e questo pure perfetto Lee Sin ha già gancato due volte la cosa non mi piace ah ma Rammus è top io pensavo che Rammus fosse io pensavo sinceramente che Rammus fosse 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 jungle qua devo stare attento perché Lee Sin sicuramente potrebbe venire a gancarmi quindi mettiamo la ward lì e lasciamola ammaturare ho filato le shuriken morto ah ho anche usato il flash perfetto peccato che ho filato le shuriken ho filato le shuriken ma in questo caso mi è venuto mi è venuto più in aiuto che no perché avendoli failati non ho abbassato così tanto la vita a a Veigar e quindi non ho usato il flash subito mi sta bene mi sta bene però non mi sta bene aver filato le shuriken allora un'altra cosa che vi devo dire io sono su Nesmurf al tuo momento ve l'ho già detto e non sono rankato qua sono a 7 di placement giocati su 10 quindi non so dove invece erano ma probabilmente silver o metà o basso non credo di più quindi diciamo che non sono aero altissimo però visto che non sono più abituato con questo champion letteralmente non sono più abituato mi va bene così allora dopo aver preso la prima kill in teoria dovrei iniziare a rammare cioè non proprio dove aver preso la prima ma ma devo avere per forza l'ultimo e tu ovviamente romobot perché ci stanno ah no vabbè c'è Gianna Twitch allora devo sapere Gianna still have exhaust il peggior nemico di Zed ragazzi l'exhaust il peggior nemico che Zed può avere oltre alla Zonia il fottuto exhaust il fottuto exhaust vi uccide tutto vi uccide tutto l'exhaust letteralmente vi uccide tutto quindi dovete sapere dovete sapere quando il supporto avversario ce l'ha per forza o il mid laner o non so o il top lane insomma chi cazzo abbia l'exhaust dovete sapere quando ce l'ha e quando no devo riprenderci un po' la manocca con la combo base di di Arras perché al momento mi sento che faccio un po' schifo allora io ho l'ultimate posso tranquillamente barstare questo barstare questo vegar devo però stare attento ora lo lascio pushare tanto lui vedete va avanti ok l'ho preso bene perfetto questo è stato un buon Arras no è vaffanculo è stato un buon Arras ora prima che lui faccia il 6 mi avvicino aspetto la W doppia perché il flash non ce l'ha ma voglio avere una combo in più devo vedere se riesco a utilizzare la la combo di escape vediamo un po' ho failato scusate ho failato ho totalmente failato non sono più capace non sono più capace ho failato cazzo una volta queste cose le facevo proprio come bere un bicchier d'acqua però devo riprenderci la mano dovete essere pazienti Zed non è oddio vabbè ho la no 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 non facciamo i gridi no 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 ho dovuto ho fatto una cagata no c'è anche Gianna c'è anche Gianna vai lascia stare c'è anche Gianna io però resto perché Veigar non ha mana cioè ne ha poco anche se con l'ultimo potrebbe shottarmi ma non ha non ha il flash e non avendo il flash potrei ucciderlo io adesso ha 100 di mana eh si col cazzo non so se ha il flash quindi meglio usare questo diranno ancora il 6 no restiamo 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 Veigar ha 136 adesso userà sicuramente il mana per una Q e poi posso andare addosso anche l'ignite e usala sta cazzo di mana non posso andare addosso perché c'è l'ultimo ok perfetto oh me l'ho sparata subito forse avrei dovuto già ignitare forse avrei dovuto subito ignitare qua perché eh mate non ho un cazzo eh lo sapevo lo sapevo lo sapevo sono idiota sono idiota sono idiota e sono idiota volevo avvicinarmi solo per mettergli l'ignite addosso a parte che non ce l'ho vabbè stronzata stronzata what the fuck che cazzo ha sto l'essere we vabbè abbiamo fatto stronzata io mi sono fatto bettare da da ste imbecilo di vai però sono stupido io niente da dire su cioè niente da obiettare su questo ho fatto una cagata vabbè fa niente le cagate happens le cagate succedono 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 sono fuori forma è logico allora di farm mi sto tenendo quasi bene vegar non ha l'ulti io ho tutto up potrei forse no non dubito che lo posso shottare con l'ulti ho bisogno di fargli prima un ho bisogno di fargli prima un bella rass tipo questo questo va benissimo ah lì potevo anche sopparmi ora aspettiamo di avere di nuovo la w non prendiamoci questa cazzo non prendiamoci questa in faccia ora bisogna stare attenti a bisogna stare attenti al bastardo eh mi sa che che vegar c'ha di nuovo il flash vegar c'ha sicuramente di nuovo il flash io non sta bene che me ne sto top tutto il tempo comunque cioè devo andare a romare ma il problema è che non so non so le summoner di gianno cioè non posso non posso gancare botte sapendo che minchia sto ramos sapendo che è up l'exhaust capito e non me lo dicono loro allora l'isyn è sicuramente nei paraggi perché ha dato il blu ha dato il blu a vegar quindi quindi è sicuramente nei paraggi allora ah sto cazzo è mid ok e cioè è top bravo velcos brutto qua potevo potevo anche risuapparmi perché non mi avrebbe preso la perdono altro mio mi sono anche fatto colpire che imbecille imbecille nel senso di imbelle ok allora cambiamo strategia andiamo top andiamo top che forse l'isyn riesco 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 a killar ma nel momento hanno bisogno in top lane perché sono tipo mezzo assediati vegar non mi sta seguendo ok vabbè ma che sfiga lo sapevo che aveva il kick lo sapevo che aveva il kick ok mi sono preso l'assist però che palle che palle rammus vabbè rammus ha flashato non pensavo vai ma sei scema ma che problemi ha sapevo che aveva il kick ma non ero troppo consapevole mi metto le swiftness voglio rompere un po' sapevo che aveva il kick ma non ero assolutamente consapevole piuttosto pensavo che l'avesse già usato insomma l'isyn e rammus erano lì da due ore ho detto boh l'avrà già usato no l'avrà già usato lol alla che gianna mi perché stai fermo approvaci no vabbè è stato fermo almeno davi la kill a gianna e non il double lo fa rammus rammus è un problema è 4-1 è 4-1 dovrò mettermi la la ruin king e e il last whisper assolutamente ok vieni minchia che danno ve li ho fatto questa le se ne è beccata in faccia ma proprio tanto tanto stavolta ho combato decisamente bene però non mi sono preso il bonus della ulti perché non l'ho killato prima torre del game oh sta arrivando sta arrivando twitch l'ho visto sì sì l'ho visto l'ho visto l'ho visto e sicuramente c'è gianna con l'exos quindi non vado a non vado a tentare di barstarlo ah ma non era la prima la prima torre ok dov'è gianna bye bye oh finalmente una combo giusta finalmente una combo giusta mi sento di nuovo uno zed mi sento di nuovo uno zed ok ci sono voluti 12 minuti però ce l'ho fatta secondo me mi era lì sentito che schifo ho preso solo 9 di ad vabbè torniamo a casa non ho bisogno di mettere l'extrinker perché c'è solo veigar e tanto lui ha danni percentuali quindi è totalmente inutile mi faccio vorrei farmi la runking ma mi sa che mi metto la black cleaver al momento mi metto la black cleaver metto questa e prendo un'altra pink che può sempre servire metto la black cleaver sia per tentare di di far tanto danno a rammus nel caso dovessi ovviamente non focussare lui però nel caso rimanga almeno li faccio danno e soprattutto mi aiuta molto con la d e con il cooldown che per ora l'ho un po' non sottovalutato ma lasciato lasciato da parte l'exhaust eh si ma che cazzo l'ho un po' lasciato da parte la tax paper adesso ah vaffanculo ok allora qui come ci muoviamo ragazzi siamo tutti fermi non è bene stare tutti fermi mettiamo una pink qua noi abbiamo il cloud drake ottimo il cloud drake mi serve un sacco soprattutto per le swiftness mi è dovuto a muovermi molto velocemente io sto andando top ma è abbastanza inutile che ci vada perché rammus con la torna e non l'ammazzerò mai rammus con la torna e non l'ammazzerò mai ho anche fila no ma non non dobbiamo andare no no draven 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 come pensi di far fuori un rammus ma che ti stai facendo da solo vabbè vabbè lasciamo stare draven che è stato un po' idiota zed manco ti rispondo ho sbagliato tutto no me li ho anche messo gli ignite ma porco dio non sono abituato ragazzi mi confondo con le skill ancora dovete darmi patience dovete darmi pazienza dovete essere pazienti sì ma è 6-2 rammus cristo è 1-5 Olaf è 1-5 Olaf siamo nella cacca chi è fidato da noi? velcos draven fa cacare nice restiamo qua cleariamo qua serve immediatamente non tanto la runking piuttosto che last whisper anche se io ho bisogno di critico cioè sì di critico io ho bisogno di live steal contro rammus ma più che altro draven ha bisogno della bt che si è fatta l'infine vabbè se draven si mette la bt è più facile per lui poi fare del danno a rammus no me lo prendo in faccia questo me lo prendo in faccia questo non ci vado perché non ho l'ulti e so che lui ce l'ha perfetto non mi ha preso con niente oh grande velcos grandissimo velcos oh porca puttana aspetta arrivo 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 mega tanto però andiamo via rammus è abbastanza enorme rammus è molto enorme non ho ancora distanza magica deve deve farci danno ma che cazzo perfetto stavo dicendo che deve farci danno velcos proprio come ha fatto draven è un pelo eh vabbè quanta gente ok 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 non ho più niente non ho più skill non ho più skill è un po' una clan fiesta sto game ma non mi stupisce siamo veramente a basso basso elo siamo veramente a basso basso elo quindi non mi stupisce poi ha affidato veramente tanto Olaf ha affidato veramente tanto Olaf io non ho ancora l'ulti quindi non posso fare un cazzo a parte che se ultassi qua in mezzo molto probabilmente mi focussero e mi stendono quindi oh mio dio ciao non possiamo farci niente ma Olaf dov'è? boh Olaf è qua che si fa i cazzi suoi fatemi recollare che c'ho c'ho la becchia no dovremmo prenderci dovremmo prenderci il Drake è un inferno a questo ammazziamoli Sin perché l'ho fatto? dove cazzo? perché l'ho fatto? pensavo ad avere pensavo ad avere la ultimate che idiota che sono madonna che clown fiesta è sto game ma questo mi ammazza le si mi ammazza ma che clown fiesta è sto game can we stop the clown fiesta? possiamo smetterla? è possibile? io mi sto facendo trascinare da loro perché è difficile rimanere grazie ambulanza sei sempre a rompere il coglione è difficile rimanere sugli obiettivi quando sei l'unico che vuole farlo ma questo game non lo creiamo manco con Syndra mi sa Rammus è troppo enorme Rammus è veramente troppo enorme ma che si stanno prendendo le torri come giusto che sia io non abbiamo una ward nella nostra giungla manco mezza non abbiamo mezza ward nella nostra giungla dove è il topo di merda ha flashato muore bastardo muore pure tu ok il top ha flashato dai oh bravo finalmente vorrei anche dire flash twitch ma per ora devo un attimo devo un attimo pushare poi ci penso dopo tanto questi dubito che abbiano oddio c'è pegarli meno male che è stupido no sono troppo bello c'è lui allora twitch f ok io ho pochi minion lane push si noi portiamo i modi carri che non serve un cazzo almeno sono fidato io ma io fidato al momento non è che mi non serve molto allora mettiamoci subito la runking serve life steal anche a me serve life steal anche a me contro contro ramos si che c'ha tipo 3 milioni di armor io non voglio andare tutto su non voglio andare tutto su cioè non devo andare su ramos i miei obiettivi sono vegar e twitch soprattutto twitch però essendoci gianna essendoci gianna so già come potrebbe andare a finire devo aspettare un loro brutto positioning velcos deve far danno a a ramos velcos deve far danno a ramos io vorrei anche prendermi il blu perché perché siamo tutti nella nostra giungla cioè ok mica tanto perché vabbè si non dovevo tornare lì non dovevo tornare lì ma va bene ugualmente buona 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 non so perché non è nel fight ma quello che premeva me era di far più danno possibile a a vegar e poi a twitch e poi ci pensavano i miei io alla fine va bene così va bene che ci muoia dopo che ho shottato un carry cioè non dovrei sarebbe meglio che non morissi ma sarebbe meglio che non morissi ma va bene così ecco c'è il morello ok serve servirebbe un relay servirebbe un relay e a e a draven serve la bt esatto draven draven bt bt and lord dominic please deve farsi la bt e la lord dominic per forza altrimenti buona ma in realtà pure io posso far danno a rambo cioè non troppo perché se lo focus mi distrugge più che altro dobbiamo io non ho ancora preso la torre mido in tutto questo sono morto non me ne sono accorto magari magari ho beitato basta draven basta draven basta draven hai preso l'exhaust no ex gianna ok abbiamo beitato un exhaust cioè ho beitato un exhaust buonissima buonissima questo vuol dire che per due minuti twitch è mio un po' troppo ok neanche neanche il locket ok adesso tiriamo dritto mid go straight straight mid andiamo dritti mid andiamo dritti mid sono senza gianna senza veigar senza locket e senza exhaust cioè proprio il mio paradiso questo tiriamo dritti tiriamo drittissimi tiriamo vedete hanno fatto zed veramente da late game al momento perché avevo visto il cooldown della e due secondi cooldown della e due secondi io me lo sogno cioè me lo sognavo una volta e io questo posso ucciderlo adesso e invece no perché c'ha perché c'ha scusatemi non mi sono accorto che aveva non mi sono accorto della zonia my bad no no è l'unica cosa che ho dato per scontato cioè che dovevo dare per scontato qua c'è l'isin però è stato un bel bait non voluto eh non voluto ma è stato un bel bait siamo in 10.000 possiamo vabbè eravamo in 20 potevamo killarli io sono rimasto lì come un fesso non pensavo era anche guardato porca puttana troia era anche guardato e ho pure flashato peccato che la idramus prende da 10 km la idramus prende letteralmente da 10 km rammus non si è ancora fatto la resistenza maio se ne sta facendo un pochino adesso vel vel cosgo liandri orrile sarebbe meglio orrile perché è slow sarebbe meglio il liandri io c'ho 20 della mia ultima ho preso da rammus dovrai uccidere deve uccidere twitch devo uccidere twitch anche se non ha troppissimo di lui al momento avessero avuto jean come di gary allora ce la si poteva fare ok ola sta diventando tanchino vai pure anche se non ha vai in una alternativa forse niente flash no f twitch eh vabbè che ne sapevo c'è porco di un my bad vabbè almeno ho preso il flash abbiamo preso il flash a twitch me ne sarei dovuto andare dall'altro lato vabbè abbiamo preso una tower va bene questa è stata colpa mia però mi sto distraendo troppo mi sto distraendo troppo troppo sto facendo molti errori di positioning più che meccanici anche quelli però sto facendo errori di positioning al momento io posso vincere lo sto game non è difficile vincere sto game devo solamente focussare bene guardarmi dai loro cc e non è un problema vincere devo solo guardare bene quello che faccio e basta andare su twitch che ora non ho neanche più il flash quindi va bene così i drive-man però dovrebbe uscire a gruppar con noi rammus bisogna lasciarlo stare io devo solo andare sui carry allora ho visto lissing andare là non ce la faccio a killarlo perché c'è il suo kick di merda semplicemente mi kicka via e chi lo vede più e non riesco più a followarlo siamo a bui 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 più totali bui più totali guardate guardate qua siamo nel buio più totale cioè io come faccio ad andare nel buio sono un cazzo assassino non posso andare nel buio non abbiamo ward che cazzo è sta roba ma perché ultimissing che tanto non ce la fai ma ok posso fare niente no non posso fare niente non posso fare niente io non capisco perché vai abbia bravo draven bravo bravo draven ok draven ha carburato draven ha carburato ok perfetto qui ho me la sono giocata molto male in team fight ma che baron ma che cazzo baron ma che baron ma siete idioti baron ma facciamoci la torre il baron io mi faccio la torre ragazzi cioè molto importante se poi ora volete farvi il baron fatevelo pure ma per il momento anzi facciamo che distraggo lì sì distraggo che sicuramente ora ci vanno proviamo a distrarmi magari dirò tutto su di me secondo me non se lo aspettano se non è guardato non se lo aspettano però non c'è nessuno dai non se lo aspettano non se lo aspettano ok non se lo aspettano perfetto cioè non se lo aspettavano allora via ruin king last whisper comunque si faceva il last whisper così ok vabbè lì non ci possiamo fare niente io vado botlane ma toramo so ormai siete in grado di ucciderlo ormai Rammus è in grado di ucciderlo ora vorrei tanto splittare ma mi faranno splittare botta non lo so io uno io non mi faccio più ormai anche Rammus ormai anche Rammus mi faccio tanto loro sono distratti che palle ho tutto perché non uso la ultimate non l'ho usata perché ho detto boh la è sprecata quindi non la uso fanculo a me vabbè non è importante cioè ho preso la torre chi se ne frega tanto appena sei vicina la sto prendendo mate la sto prendendo cioè più di così tanto fightare con loro non avrebbe portato a niente avrei guardato a qualche kill ma a zero a me interessano gli obiettivi a me al momento interessano gli obiettivi quindi le kill sono secondarie allora lì c'è Rammus e Gianna zero possibilità che posso uccidere arriva via Vel'Coz la spisper ancora non ce l'ho perché c'è il drake tra poco le togliamo questa e mettiamo mettiamo questa qui ho 350 TOD ok direi che sono bello bello huge al momento Rammus ha 321 di armor che arriverà tipo a 450 150 con la sua woodhop mi caga un po' il cazzo che abbia farmato così poco che drago è? un inferno questo lo dobbiamo prendere io ho il potere di shottare Twitch e devo farlo stiamo molto attenti a come andiamo è totalmente buio non sappiamo loro dove sono ah no sono lì ok ho voluto ulterre lì sim per non permettergli di rompere il cazzo alla nostra front line orco di un ok 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 ho usato un ignite abbastanza buono c'è Twitch nell'intorno ok non c'è più no Twitch è ancora nel paraggio andiamo via vado a farmi il Drake che c'ho che c'ho live steal vado a farmi il Drake che c'ho il live steal report lì ma si mi stava carriando fino adesso report lì ce la faccio insomma ho live steal ma non così tanto vabbè si ce la faccio dai drive and help me vabbè niente l'ho fatto da solo ok andiamo via prendiamoci il Dominic ora mi manca solo una Mercurial Simiter e sono a posto allora dov'è la si faceva così la Simiter ok così perfetto oh ho fatto cagare perché ho fatto cagare davvero ho fatto cagare non ho fatto nulla di spettacolare però però sono full build 3 ore di cc avessi avuto il mio fottuto avessi avuto le Mercury beh non farle è stato meglio però avessi avuto il mio fottuto quicksilver sash ce l'avrei fatta parca vottana io volevo io volevo farmi una kill in grande stile e poi oh brava volevo farmi una kill in grande stile e poi andare nelle vie di R però il cc di Rammus è durato 40 secondi continuavo continuavo qui a cliccare R non funzionava un cazzo avessi avuto da questa assurda vabbè ora ce l'ho ora ce l'ho ora ce l'ho il cc di Rammus mi fa una pippa intendiamoci me la sto mettendo solamente adesso perché ero sicuro di vincere perché ero sicuro sicuro che il nostro team era superiore altrimenti mi la sarei messa come terzo oggetto cioè via tolto la tolto il Dominic mi sarei messo immediatamente la QSS ma sapevo che ce l'avremmo fatta alla fine siamo in Loelo qua quindi non sto sottovalutando ma so le potenze del nostro team so che Rammus ormai ha finito il suo power spike dato che che Draven non lo può più one shottare brutta ulti allora c'è da pushare la top lane che faccio allora me ne sbatto di vai e push no non è stata una buona idea perché sta arrivando Rammus da me e uno è morto e l'altro è morto forse lo uccido ok è morto per fortuna grazie Dominic grazie Ruin King grazie Dominic grazie Ruin King se c'è l'Issin qua giuro che mi invicco grazie Dominic grazie Ruin King ho fatto 3 kill in questo fight il key di E mi sarà gratificato che cazzo sto dicendo sono 15 6 8 beh non è che sia questa gran key di E avessi avuto 3 morti in meno allora ok per U oh 2003 sono quasi full build mettiamoci questo io direi di rifarci il Baron Olaf potresti non morire a random da solo contro 4 vabbè I can solo come si non so se è una buonissima Draven Draven Dravenio aspetta un attimo ah no lì si ne bot ok vai 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 lì si ne bot ah non c'era ancora il Baron però devi tankar tu mate perché se lasci tankar a me io non ho lifesteal devi tankar tu io non c'ho lifesteal a posto cioè ce l'ho lifesteal ma poco io sembra un po' green ragazzi l'ho fatto ragazzi perché raccogliamo abbiamo il Baron abbiamo il Baron cioè dovremmo pushare la lane o stiamo pur sempre a far ad aspettare che cos'era che cos'era che schifo che schifo no non mi prende a parte che ce l'ho a quest'ess ok è Gianna ok che è un supporto ma è un bersaglio facile lo prendo ah cazzo che cosa brutta che ho fatto scusate ma la telecamera era messa male in questi casi è meglio che uso la telecamera così avevo la telecamera messa male e mi hanno focussato troppo ma no no ho sbagliato io non ho usato neanche la focuss neanche la la yomo sono attivabili che io non uso praticamente mai devo devo riabituarmi sembra facile guarda che non ha il flash non ha il flash santo dio mi sto abilitando tutti bravo draven dai devo riabituarmi con tutto anche con gli attivabili perché è anche per questo che z è veramente difficile cioè che tutti gli assassini sono difficili perché hanno un sacco di attivabili da fare al momento giusto e io devo essere veramente multitasking in quel caso se avessi se mi fossi messa la telecamera fissa perché ero così no e non vedevo niente bravo ormai draven è andato ok ormai draven è partito ormai draven non lo farà più nessuno ho giocato male ho giocato male però beh è la prima partita è il primo game della serie dai ci può stare ci può stare ci può stare che non sia stato lo z che voi conoscete che poi me l'avete visto giocare veramente poco a parte l'uno v1 non l'ho praticamente mai giocato ggwp ggwp la prima partita è andata ora andiamo a vedere i miei danni spero di non spaventarmi report lì mi stava carriando tutto l'early game che ingrati del cazzo che ingrati del cazzo ora rimettiamo la web qua la web qua rimettiamo la web oh ok beh perché non si vede il client però andò ah vero perché sto usando il client vecchio eeeh due secondi cattura la finestra cattura questa ok ok si lo so adesso non vedete mai un attimo che la la fixo la fixo subito non andatevene non andatevene no che non ve ne andate voi le statistiche mi fregano più del game eeeh voilà ok a posto allora allora boh 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 minion non ho fatto più no non ho vinto di goal non ho vinto di minion eeeh damage damage ah va bene ha fatto in molti video dragon però io sono stato second top damage va bene ma non va bene devo farli di più di più di più di più mi torna a rammus continui a fatti allora come primo game non è andato benissimo devo omettere sono placement 8 di 10 non vinte 4 su 4 nelle le prossime i prossimi game vi faccio vedere già ad arrancato perché ora ne faccio un altro paio allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto mettete un bel po' di like per continuare questa serie fatemi sapere se vi piace l'idea commentate condiviate il video su facebook per il canale cresce e noi ci vediamo al prossimo game bye bye